Ora è ufficiale, Mauro Zironelli è il nuovo allenatore della Calcio Lecco. Questa mattina la firma negli uffici di Cormano della Elettronica Video Games, quartiere generale del patron Paolo Di Nunno. L'accordo era stato raggiunto già la scorsa settimana. Zironelli, 51 anni, nasce a Tiene e dopo una lunga carriera da giocatore, con presenze in Serie A, Fiorentina-Pescara-Venezia, e con i Viola anche in Coppa UEFA, nel 2006 inizia ad allenare. Le giovanili della Vicenza e del Bassano sono le prime tappe del percorso di formazione del mister, che nel novembre 2012 diventa allenatore dell'Abano in eccellenza. Successivamente passa sulla panchina della Sacilese in Serie D, poi Alto Vicentino e Mestre, con cui conquista la promozione in Serie C con due giornate di anticipo. Gli ottimi risultati conquistati da Zironelli sul campo attirano l'attenzione della Juventus, che gli affida la panchina della neonata formazione Under-23 in Serie C. Nell'estate del 2019 viene chiamato dal Modena e a ottobre 2020 subentra sulla panchina della San Benedettese fino alle dimissioni dello scorso febbraio. Zironelli non corrisponde al profilo dell'allenatore giovane che la società aveva inizialmente indicato come ideale, ma conosce bene la difesa 3, altro sicuramente più importante requisito per portare avanti il progetto iniziato da mister Gaetano D'Agostino. Alla San Benedettese il nuovo allenatore blu-celeste ha giocato con il 3-4-1-2 o in alternativa con il 3-5-2. Proprio su quest'ultimo modulo ha puntato nella sua esperienza a Modena e anche alla Juventus Under-23 dopo un inizio con la difesa 4. Ha deciso di giocare con il 3-4-1-2 e con il 3-5-2. Grazie a tutti.